L'ho letto, mi hanno detto di legge. Vicino a questa battaglia perché non è la battaglia di un territorio, di un comune, ma di tutta la nostra regione. Noi non molleremo, fino a quando non avremmo raggiunto il risultato, di condividere un piano sanitario insieme. Noi vogliamo solo che il piano sanitario vada avanti nel modo giusto e sia costruito per la gente e non contro la gente. Ma i cittadini sono preoccupati anche per le sorti dell'ospedale di Urbino? Noi siamo molto preoccupati per le sorti dell'ospedale di Urbino, ma io volutamente non me ne sono voluto occupare ancora perché non è che deve essere risolto il problema di Urbino, deve essere risolto il problema di tutto il territorio. A me mi hanno anche detto ieri in un incontro in prefettura, ma lei cosa c'entra con il territorio? Noi non è che possiamo salvare i cittadini di Urbino e uccidere quelli di Carpegna o di Lunano o di Apecchio. Quindi noi in questo momento rischiamo veramente di uccidere le persone perché quando uno deve aspettare un'ora, un'ora e mezza per arrivare a un pronto soccorso decente è chiaro che la vita è in pericolo. Che cosa si aspetta dalla conferenza dei sindaci di Area Vasta di domani mattina? I cittadini possono essere certi che i sindaci porteranno in fondo questa battaglia. Io l'ho fatta dall'inizio proprio sul funzionamento dell'Assemblea di Area Vasta perché solo così riusciremo ad avere i risultati. I risultati sono quelli di voler condividere il percorso. Noi domani faremo anche le nostre proposte che condivideremo prima con l'Assemblea perché noi non vogliamo fare le proposte di uno, di due, di cinque sindaci. Noi vogliamo portare avanti le problematiche di tutti. Dobbiamo rivedere. Non possiamo fare una riforma in prospettiva di avere un ospedale unico che si paventa ma che avremo probabilmente. Se l'avremo, io spero che l'avremo, ma fra dieci anni un ospedale d'eccellenza. Ma il primo soccorso, i servizi sul territorio non si possono smantellare prima in funzione del fatto che si promette una cosa che ancora noi non vediamo.